Lo sport, il volley, perché dopo la forte delusione per l'uscita nei quarti di finale dei play-off per la Sir Susa a Perugia è tempo di tornare in campo. Succede questa sera in casa del vero volley Monza per il primo match della fase a girone del torneo che assegna il quinto posto finale valido per la partecipazione alla prossima Challenge Cup. Fischio d'inizio del match alle ore 19.30. E sul nostro sito web è tornato come ogni mercoledì parliamo di sport.